Bentornata mia piccola scienziatina, immagino che lei stia benissimo, dato che gli ho fatto una promessa davvero meravigliosa Vi alla grande Stef, alla grande Cercherò di ricordarle un pochettino, le avevo promesso il nascondino e abbiamo fatto una roba incredibile con delle armature bellissime che ci permettevano di nascondersi Quello è vero Le ho promesso delle armi e quest'oggi ne abbiamo una davvero fantastica E le ho promesso dei dolci e inizio a dirglielo, la prossima volta la porto nella dimensione dei dolci Che è un qualcosa di stratosferico Delle tre è la cosa che mi interessa di più Delle tre è in assoluto la migliore, però quest'oggi abbiamo comunque a che fare con un'arma che le piacerà tantissimo Ma se la dovrà creare da sola, dato che lei è una scienziata Quindi io la assisterò No, allora così non va bene, scusa No, no, allora io l'ho inventata Devi far trovare tutto pronto qui, eh No, no Io non faccio nulla, Stef Perché lei è una scienziata, deve imparare a lavorare Non faccio nulla E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E sono Stef, che sto giocando a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft E siamo tornati nel nostro fantastico laboratorio Bello, bello Oh yes Fere, ti sento casata quest'oggi Tanto, tanto Dato che manca il tuo entusiasmo, te lo faccio arrivare subito, subito, subito Se ti dicessi, che ho inventato un'arma che permette di catturare i creeper Di metterli in una sorta di cannone È strano però E di spararli Perché dovremmo sparare dei creeper, però? Perché creiamo un'arma di distruzione letale, Fere Ma povera Dovrebbe piacerlo, è una roba del genere, signorina Sì, però può ridere, cioè sparaflashare dei creeper No, tu li catturi e poi li spari Non riesco ne a catturlo perché mi viene da ridere Ma è bellissimo, ma tu prendi praticamente il loro potere Magari è più bella da vedere che da spiegare Ma sei una persona terribile Ho preparato quest'arma per te Sono rimasto lì a studiare un sacco di tempo Sono dovuto andare a prendere anche tutti i materiali da soli Ho detto che siamo ancora poveri Quindi sono andato a scavare in miniera, capito? Uno scienziato come me E lei risulta pure Sa che cosa deve creare per iniziare? No, ovviamente Non lo so, hai fatto tu Deve creare un retino per catturare i creeper Mi sembrava logico Perché se noi dobbiamo usare i creeper come... Come le farfalle Esatto Uguale, brava, brava, brava Sta già capendo Allora, se ricordo bene dovrebbe essere in questo modo qua Fammi vedere Hai quattro... Allora, vediamo Vediamo se lo scienziato... Allora, lo stai facendo tu allora No, no, no Tu guardi e tu la crei Perché te l'ho detto Io non farò nulla quest'oggi È così Ok Ok, ok Non è difficile Ce la puoi fare Non ci sono problemi Creala E poi mostrami che cosa hai creato Ok, ci sono Ha funzionato? Sì, 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 ci sono Ok, fammi vedere Oh, yes Ok Ci ho provato Però con te non funziona Bisognava testare Per vedere se hai una rete efficace Oggi è spiritosa Magari è bucata Capito Magari è bucata Non funziona bene E i creeper ti sfuggono Sì, sì Guardi a creare le altre cose Perché tanto dopo che lo catturi L'hai catturato E quindi non c'è bisogno di nient'altro Quindi andiamo in giro per il mondo E cerchiamo un bellissimo creeper Qua come puoi notare Non ho ancora finito di sistemare Dalla sfida di nascondino Perché purtroppo Come hai detto I nostri soldi sono abbastanza pochi E quindi Hai solo tolto quello che c'era Ma hai lasciato un po' troppo piano Stef Dovresti ridecorare un po' di Non ho neanche la terra E ripiantare un po' di erbetta Cercherò di creare qualcosa Che crea la terra Comunque andiamo in giro A cercarci un bel creeper Ascoltami Ok Credo che tu abbia un solo tentativo Con quel retino Come faccio? Cioè dove devo mirare Secondo te aiuto Devo mirare dritta per dritta Ok quindi Quando sei abbastanza vicina Tasto destro E glielo tira addosso Ok Oh mamma mia Inizia a tenere il retino in mano Fere Fere è un creeper normalissimo Non è brutto Vai È brutto Vai Ce la puoi fare Vieni Ok Vado all'ultimo Bravissima Bravissima Lo vedi quell'oggetto? Sì è il creeper Esatto Esatto Lo abbiamo catturato Non ridere Fere Non c'è nulla di divertente Guarda la mia mano Certo che c'è Stef È un creeper catturato Mi sembra normale Allora tu mi dirai Oltretutto Ho perso il mio camice Sì è vero Come è possibile Come è successo Eccoci tornati Fere Allora Prova di indovinare Che cosa dobbiamo craftare adesso Noi abbiamo appunto Creato il creeper Ok È presente quando di solito Tipo catturi una lucciola Dove la metti? No non le catturo Stef Vabbè dove metti una lucciola Se la catturi teoricamente? In un barattolo Esatto Quindi dobbiamo fare dei barattoli Dove mettere l'essenza del creeper Ma la crudestasse Per chiudere il suo potere Fere non parliamo di crudestà Cioè non solo l'abbiamo reso uno stecchino Guardalo Secondo me non sta neanche bene Cioè guardalo Ti sembra che stia bene A me non sembra che stia bene No dobbiamo sparare Non farmi sentire in colpa Per favore Dai Io te l'ho detto che era una cosa un po' crudele Allora Che cosa vuoi fare Stef Scusa Guarda la crafting table Ok Nel mio schermo Fere Devi fare così Sei di vetro giù Tre di legna sopra Ok E crei sei empty jar Che sono appunto i barattoli Ti lancio i materiali per terra Mi raccomando Mamma mia non sta mai zitto questo qua Non sta mai zitto questo qua Guarda C'era bisogno di rompere così tanto Stef Adesso mi metti il jar E in alto alla destra del jar Nella crafting table Quel creeper E teoricamente Crealo e facci vedere cosa hai fatto Davvero Perfetto Davvero Fere sta funzionando tutto Eh certo Lo so che sei felice Ci siamo quasi No per niente Perché adesso abbiamo l'essenza dei creeper Il potere dei creeper tra le mani Ora dobbiamo soltanto creare Diciamo il cannone che lo sparerà La parte più semplice ovviamente Beh sì 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 Abbastanza semplice Allora Per iniziare Ti inizio a dare un po' di ferro Dobbiamo fare Appunto La base del cannone Per farla Devi mettere Vediamo se mi ricordo Era una roba del genere Forse Sì Fere Guarda un pochettino Ok sì Questa forma È una sorta di boomerang Qualcosa del genere Sì fatto E ti crea il cross Ok Dopo il cross Bravissima Dopo il cross Dobbiamo finire Di diciamo Mettere le cose intorno E avremo il nostro cannone Poi Con il cannone Tramite la jar riempita Con il creeper Avremo l'arma funzionale È un po' lunga qualcosa È un po' difficile Beh Fere scusami È un'arma del genere Deve essere difficile a fare Altrimenti Tutti nel mondo di Minecraft La soluteranno Sta guardando Stef Ma non mi sta guardando Sta sorridendo Fere è felice lui Non è per niente felice I creeper sono felici di esplodere Quindi noi semplicemente Li stiamo potenziando Non credo Stiamo dando un senso Stiamo dando un senso nel mondo Oh yes Allora È un po' strano Allora io me lo vedo bene Però è un po' brutto Come si vede dal tuo schermo Che sembra Capito Un'arma morta Non lo so Sì 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 Sembra che poi ti spari i piedi Se clicchi tasto destro In ogni caso Non premere destro Perché altrimenti Facciamo un disastro Ok Tienila così Io vado a prendere Un attimino nella cesta Gli zombie che sono uscito A catturare E proverai Quest'arma su di loro Quindi non solo Facciamo un creeper vittima Ma anche un po' di zombie Però la scienza Deve fare gli esperimenti Fere Sicuramente Su qualcuno Deve pur sempre passare Non è solo per il puro divertimento Vero o no? Beh Fere sei tu che vuoi le armi Io ogni tanto te lo devo far rivedere Smettila Presi 5 zombie Direi di allontanarci Un bel po' Fere Perché come sai Appunto non ho I soldi per riparare I danni che facciamo Quindi facciamo In una zona Che almeno Da nostra battaglia La gente che vive in questo mondo Si arrabbierà Per questi esperimenti Però ci penseremo in futuro Te l'ho detto Per ora devo conquistare Prima te Per avere Oh no ma lì c'è pure un villaggio Fere se facciamo disastri Lì si arrabbiano Giriamo a destra Andiamo verso destra Perché Se si accorgono Che facciamo esplodere Creeper Lanciandoli con un cannone Magari facciamo esplodere Parte del villaggio E poi verranno a chiederci Aiuto Stef Quindi soldi per noi Guarda che può essere Una buona tecnica Aspetta Fere Questi sono rari a trovare Ci potrebbero servire Per qualche esperimento Ne prendo giusto qualcuno Che possono far comodo Quasi così me li mangio pure Perché ho un po' di fame Ma smettila dai Andiamo Allora secondo te Siamo abbastanza lontani? Credo di sì dai Ok Allora Tieni l'arma pronta Stai qua con me Ma la devo caricare o qualcosa? Non mi ricordo Come non ti ricordo? Perché io Devi sapere che Dato che a me Io lo tiro sopra di te No 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 Ti uccido Stef È pericolosissima Devi sapere che Io ok Ho saputo creare l'arma Ma non ho avuto il coraggio Di provarla Quindi È un po' pericoloso Vieni dove sono io Devo caricarlo oppure no? Vieni dove sono io Ok Spawno davanti a noi I cinque zombie E tu premi tasto destro Se non parte col destro Scappiamo Ok? No Stef Non sono convinta Secondo me va caricata Noi corriamo Se non spara corriamo Uno Due Tre Quattro E cinque Vai Fede Spara Ho sparato Ho fatto quel bucchetto schifoso Stef Fede stai scherzando? No Fede Scappa Meno male che giorno Meno male che giorno Io l'ammazzo Io l'ammazzo Io l'uccido Ma perché mi fai stare qua? Perché Stef? Andiamo via Perché? Perché stiamo facendo questo? Dovrebbe essere un normal Scusami Dovrebbe fare un'esplosione Di un creeper Vieni Vieni a vedere Tanto adesso quelli stanno finendo Di morire Con Sì per fortuna è giorno Ce la caviamo Torniamo dove c'è stata L'esplosione Hanno fatto questo Cioè questa ha fatto Davvero? Ma non ha senso Fede Io l'avevo preparata con cura Quest'arma Teoricamente dovrebbe avere Il potere di un creeper O forse perché diventa Magrolino Diventa Magrolina l'esplosione Esatto Te l'ho detto che l'abbiamo reso Uno stecchino E non era una bella cosa Dobbiamo riprovarci Riprovo Stef Sì Vai Io sono già pronta La domenica Fammi sognare Eh Beh Ah no Sai perché? Ahah Perché io avevo un altro creeper Speciale Steph Ed è partito pure lui Hai notato che ha fatto Due esplosioni? Che la seconda era gigante Sì Sì esatto La seconda gigante Era del creeper potenziato Che ovviamente Se non ci penso io Qui a fare le cose Tu non combini nulla Quindi La mia arma faceva schifo Mentre la tua andava bene? Sì Vuoi rivedere quello potenziato Giusto per renderti conto Bellucci Ma dove l'hai trovato? Non ti interessa Non ti interessa Poi ero io cruda E la cattura di creeper Vero? Sì perché tu tanto Non sai fare nulla Vai Mi sono lo scarso Pronto Fammi sognare Pronto Questa è una bella esplosione E qui ci vuole Fereriki che fa funzionare le armi Perché se lo fa Stef Non riesce a fare nulla Sei un fallito Stef Mi dai un creeper Che ti fa un buco 4x4 Ma ti sembra? Non pensai io a fare le cose Tieni la carne degli zombie È il tuo premio per oggi È anche questa legna rotta Vai via Ma sembra invitante in realtà Saranno le lenti che abbiamo Ma sembra invitante Quasi quasi me la assaggio Anche perché c'ho una fama incredibile No Ferer Ho di meglio Ok Vai Allora Qua ti devi fidare Inizia a tenerla No Stef So che non ha un bel aspetto Non chiedermi come l'ho fatta Ma credo che potrei intuirlo Dato che è a tema Con tutto quello che abbiamo fatto oggi Mi fai pure la torta di creeper Cioè non solo li rendi stecchino Ma li frulli pure Che stai combinando Stef Ti fidi? No Ne vale la pena Vado Aspetta mi sono messo il fungo per sbaglio Vado Vai Stai capendo? Sì Praticamente Genera delle esplosioni casuali Intorno a noi E Ferer Fermo Non andremo troppo lontano Che distruggiamo tutto Io non avevo valutato la potenza di questa roba Dura ancora 20 secondi Stiamo distruggendo il nostro mondo Stai fermo Stai fermo Poi lo dovrai risistemare tu Stef Sistemerai tutto vero? Guardami faccia Sistemerai tutto Però ho fatto un disastro Come sempre Ma scusami Ma quella schifezza di prima Ma facciamo un 4x4 Sta roba è una bomba nucleare Cioè guardate che Che casino I villageri Ci vorrà tanto tempo I villageri non mi perdoneranno mai Cioè nessuno verrà mai a chiederci una mano Rimarremo poveri per sempre E sarà colpa tua per sempre Sì 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 È colpa mia Che avventura è questo oggi È stato super divertente Credo che mi sono divertito Più oggi che con l'armatura Ma non male che tu ti stessi divertita Ma fai re anche tu ti stessi divertita Sì ma c'è C'è un disastro Ci ho dovuto pensare io Dovevi prepararla tu Invece se non risolvo le cose È tutto un disastro Un bel item frame Per ricordarci di questa giornata Allora facciamo che questa è la nostra lavagna Ne mettiamo uno qua Perché poi pian piano la completeremo Ok Ok Ogni tanto avremo delle armature Ogni tanto degli item frame Ogni tanto qualcos'altro E quest'oggi Appunto Il simbolo È il creeper Dato che lo abbiamo catturato Ci abbiamo fatto una torta L'abbiamo fatto esplodere In 2000 modi possibili Direi che il simbolo della giornata È proprio lui In ogni caso Fere come promesso Il prossimo video Sarà un qualcosa di epico Spero che il prossimo video La dimensione dei dolci Steph sarà quello che mi convince Definitivamente Perché per ora sì Nascondino è stato bello Ma oggi è un po' cannato Anche perché Fere Stiamo finendo i pochi fondi Che mi sono rimasti Eh esatto Quindi o ti convinco Ti convinco Perché poi dovrò lavorare Per qualche villagero Perché altrimenti Chiudiamo baracche burattini Sì già con tutti quei buchi Non so se mi perdoneranno mai Ma spero di sì Per ragazzi lasciate un like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao